Benvenuti domani, sabato 13 ottobre, la Chiesa Cattolica fa memoria di San Benedetto. Passata una prima perturbazione, ma il tempo rimane a tratti nuvoloso e instabile, ancora con piogge sul nord-est e centro-sud, sulle regioni atriatiche, Lazio, sul resto del sud e Sicilia, con veloci temporali. Andrà meglio su Piemonte, Liguria, Coste Toscane, Sardegna e Lazio. Ma attenzione, all'inizio della prossima settimana in arrivo un ciclone mediterraneo ribattizzato Cleopatra porterà forte maltempo sull'Italia, sia al centro-sud che sulla Sicilia, fin su al nord con forte scirocco al sud. Lentamente il vortice depressionario perderà energia nel corso della giornata di domani, tuttavia continuerà a spingere verso la campagna masse di aria molto umida provenienti da ovest-sud-ovest. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, nuvoloso con precipitazioni su molte zone. Sono previste schiarite nel corso della giornata. Temperature stazionarie, venti tra debole e moderati da ovest, mare mosso.